Cari amici, bentrovati! In questo nuovo video parlerò di un tema molto caro, molto sentito alla maggior parte di noi, ovvero quello di liberarsi dal giudizio altrui e vedremo anche delle strategie efficaci. Prima di procedere però vi ricordo che io sono Silvio Todisco, sono uno psicologo e uno psicoterapeuta e se ti va iscriviti al mio canale e soprattutto se reputi interessanti i contenuti che pubblico costantemente, lascia un feedback nei commenti. Oggi vediamo perché è così difficile liberarsi dal giudizio altrui. Sicuramente quello del giudizio è un tema che ricorre in tutta l'evoluzione dell'uomo, una caratteristica davvero evoluzionistica. Infatti se ci pensate, migliaia di anni fa un uomo che non viveva in gruppo, che non viveva in una tribù era destinato a morte certa. Solo far parte di un villaggio, di una tribù, di una famiglia ovviamente poteva portare alla sopravvivenza. Ecco perché evoluzionisticamente è importantissimo un piacere alle altre persone, avere delle relazioni sane e non avere paura appunto del rifiuto e dell'abbandono. Questo ovviamente nel giorno d'oggi però ci può portare ad una estremizzazione, ad un valore grande che attribuiamo al potere degli altri e questo ci può causare un vero e proprio impasso, una vera e propria paura di agire, paura di fare e di realizzare quello che vorremmo per paura ovviamente di essere giudicati e di essere rifiutati. Non ci dobbiamo mai dimenticare che qualsiasi cosa noi facciamo quando ci esponiamo verremo sicuramente giudicati. Io in primis quando ho iniziato a fare video qui su Youtube a caricare sul mio canale, la maggior parte dei miei colleghi dicevano ma cosa stai facendo ma uno psicologo non fa certe cose. Ricordiamoci sempre quando ci esponiamo ci esponiamo inevitabilmente anche al giudizio e alle critiche. Vediamo ora quelle che possono essere delle strategie efficaci per appunto liberarci da questo giudizio e non ci dimentichiamo anche che tutti i più grandi mentori, tutti i grandi personaggi che si occupano di crescita personale, di benessere hanno sempre detto una frase fondamentale e importantissima. Se ti preoccupi costantemente della tua crescita, del tuo perfezionamento non hai mai tempo di criticare gli altri. Questa frase è davvero lo slogan di questo video, non ce ne dobbiamo mai dimenticare. Come primo esercizio dunque per imparare a liberarci dal giudizio c'è quello della accettazione. L'accettazione è un tema che ricorre sempre, una strategia e un valore che ricorre sempre in tantissimi temi psicologici. Bene, noi dobbiamo accettare che il giudizio è una cosa inevitabile, che facciamo tutti costantemente. Anche io, anche tu giudichi costantemente tutto e tutti. Quindi non dobbiamo mai prenderla sul personale, non dobbiamo mai prendere sul personale le critiche che ci vengono rivolte, ma accettare come un processo ovviamente inevitabile. Ricordiamoci anche che ad esempio il pettegolezzo è un vero e proprio rito sociale comunemente accettato. Però ovviamente dobbiamo imparare, questa è una tappa fondamentale, a filtrare ovviamente queste critiche e questi giudizi che ci vengono. Dobbiamo sapere, dobbiamo imparare che quando riceviamo un giudizio o una critica dove c'è tanta cattiveria, dove c'è tanta rabbia, dove c'è tanto odio, dobbiamo essere bravi a lasciarla andare, a non farci coinvolgere personalmente da questo giudizio. Perché chi agisce in preda alla rabbia, all'invidia o utilizza soltanto una critica distruttiva, dobbiamo ricordarci che lo fa molto probabilmente per colmare un senso di insoddisfazione, un senso di non piacere, ma della propria vita, non certo verso appunto noi stessi. Quindi impariamo a filtrare, impariamo a lasciare andare via tutte quelle critiche distruttive, tutte quelle critiche mosse da pura cattiveria. Il fenomeno degli haters ormai è sotto gli occhi di tutti, qualsiasi personaggio famoso è sempre stato attaccato, criticato dai favolosi leoni da tastiera. Bene, lasciamo andare tutto. Come strategia ovviamente finale, una volta che filtriamo questi giudizi, queste critiche, dobbiamo imparare soltanto da quei giudizi che ci portano ad un arricchimento. Dobbiamo sapere ascoltare anche ciò che non ci piace, ma per aprire la nostra mente, la nostra mentalità, a vedere da altri punti di vista. Anche chi la pensa in maniera diversa da noi ci può arricchire, purché sia una critica ovviamente costruttiva, un punto di vista costruttivo, soprattutto che ci insegna ogni giorno qualcosa in più o qualcosa che non sapevamo. Spero che questo video ti è stato utile, lascia un commento, lascia un feedback sulle strategie che utilizzi tu e ricorda sempre di migliorare te stesso e chi migliora se stesso non ha mai tempo per criticare gli altri. Ci vediamo al prossimo video.